Non si placa in Puglia sul terreno politico lo scambio di vedute sulla vicenda legata alla direzione dell'ARPAL, l'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro. Il consigliere regionale Fabiano Amati sostiene che il direttore generale di ARPAL non deve autosospendersi perché ha deciso di candidarsi. Deve essere dichiarato, secondo Amati, decatuto per legge dal Consiglio regionale perché la sua gestione dell'agenzia è ampiamente discutibile, sostiene Amati, e perché solo così si può fare in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Amati, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese, prosegue e la presidente Emiliano deve evitare il metodo della confusione attraverso la dissipazione delle parole e aiutarci a portare in Consiglio regionale la riforma dell'ARPAL, così da far decadere il direttore generale e offrire all'Agenzia per il Lavoro della Regione Puglia un management più all'altezza del compito. Non farlo può lasciare intuire, conclude Fabiano Amati, di essere vittima di un ricatto politico oppure di essere accondiscendente sulla gestione di ARPAL. Stiamo insistendo per la convocazione del Consiglio regionale, per ora inascoltati, perché è nostro dovere occuparci dell'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione.